E' un noto hotel di Lamezia Terme ad ospitare la presentazione ufficiale dei tre capilista DEM nei collegi proporzionali Ernesto Magorno al Senato, Enza Bruno Bossio, Camera Nord e Antonio Viscomi, Camera Sud. I temi e le parole chiave sono quelle declinate dal PD Renziano su scala nazionale, ma ovviamente non mancano di fronte a tanti candidati, dirigenti e militanti DEM arrivati da tutta la regione, i riferimenti alle tante questioni aperte sui territori tra il Pollino e lo Stretto. Enza Bruno Bossio parte dalle riforme dei governi Renzi Gentiloni per decantarne gli effetti a suo dire positivi anche su scala regionale. C'è la riforma Madia che ha avviato questa grande stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, dentro questa partita ci stanno anche i nostri LSU che noi stiamo seguendo dal dicembre 2013 e che stiamo portando, nonostante qualcuno provi a ammestare nel torbido, stiamo portando verso una sicura stabilizzazione. Il vicepresidente della regione, Viscomi, si sofferma invece sull'inutilità di promesse e slogan mirabolanti. No, no, non servono le promesse, gli slogan, serve parlare chiaro, dire la verità delle cose, ma avendo anche la capacità di guardare lontano. Ecco, io credo che queste siano le parole chiave di una campagna elettorale seria, fatta di impatti e di impegni reali con gli elettori, parlare chiaro e guardare lontano. Solo questo farà la differenza in questa campagna elettorale che già si pronuncia, come dire, piena di grandi notizie, su Facebook, nel circolo di diverse, assolutamente assurde e realizzabili. Ed infine il segretario regionale Magorno commenta con soddisfazione i tantissimi militanti che sostengono il PD. Un bagno di folla, di dirigenti, di compagni, di militanti che sono venuti a sostenere le liste del PD e del centro-sinistra. Io ho fatto la campagna elettorale del 2013, devo dire che questa volta siamo più o meno nello stesso periodo dell'anno, c'è una mobilitazione maggiore, c'è una bella risposta e credo che il 4 di marzo anche nella nostra regione c'era un buon risultato per il centro-sinistra e per il PD. E' iniziata a Vibo Valencia la visita in Calabria del leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. Il primo obiettivo del mio partito, ha confessato Grasso, è l'abolizione della mafia tax che impone ai cittadini di pagare il costo dell'illegalità, un esborso intollerabile. Dobbiamo far sì che tutti questi costi che vanno verso l'illegalità siano invece rivolti alla salute dei cittadini perché la salute non si paga e deve tornare ad essere un diritto universale. Il leader di Leo si è poi soffermato sulla sanità alla Calabria e dice dovrebbe tornare ad operare in regime ordinario e non straordinario con la presenza di un commissario. Non vogliamo più la sanità privata, noi vogliamo che ci sia un'assunzione di 40.000 tra medici e operatori sanitari, vogliamo ridurre i super ticket, vogliamo che si torni a investire in strutture ospedaliere e in tecnologie diagnostiche avanzate. Nella sede di Forza Italia a Crotone sono stati presentati i candidati del centro-destra alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Si tratta di Sergio Torromino, candidato alla Camera dei Deputati nella lista proporzionale circoscrizione Nord, Giancarlo Cerrelli, candidato nel collegio uninominale alla Camera dei Deputati ed Emanuele Altilia, candidato al Senato nel collegio uninominale di Crotone Corigliano. Sì, questo fa parte diciamo di un nostro progetto iniziato con le amministrative comunali che stiamo portando avanti insieme a questo fantastico gruppo che anche qua colgo l'occasione di ringraziare un po' tutti perché stanno tutti lavorando seriamente e con molto spirito di sacrificio. Ho intenzione di rendere grande il mio territorio, Crotone e tutto il comprensorio. Credo che la Lega, proprio interessandosi delle peculiarità territoriali, possa veramente dare una mano alla crescita territoriale, soprattutto di quelle peculiarità come la cultura, il costume, il dialetto, la cucina. Quindi questo è stato l'amore per Crotone. La politica deve essere al servizio dei cittadini, la politica deve essere per garantire il bene comune dei cittadini. Ho sempre creduto nella politica con la P maiuscola perché è la nostra democrazia e la nostra vita di tutti noi cittadini e ritengo che mai come in questo momento tutti gli elettori italiani, ancora di più noi calabresi, dobbiamo dare un segnale, dobbiamo crederci. Nel settore della cultura abbiamo ribaltato le logiche del passato caratterizzate da risorse utilizzate a piogge, a volte anche in modo clientelare. Lo ha affermato il Presidente della Regione, Mario Oliverio, illustrando le azioni messe in campo per la cultura nel corso di una conferenza stampa di presentazione di un progetto internazionale sul teatro in Calabria. Stiamo lavorando, ha detto Oliverio, ai microfoni di RTC per investire in cultura e realizzare obiettivi e in primis per far esprimere i tanti giovani talenti calabresi e quindi creare anche nuove opportunità di lavoro. Presidente, investire in cultura e realizzare obiettivi, questa volta con la logica della triennalità. Noi abbiamo destinato risorse importanti per le attività culturali a 360 gradi, per la prima volta credo la Regione mette risorse consistenti, non più il piccolo fondo di 300 mila Euro, ma per tutte le attività culturali abbiamo programmato oltre 10 milioni all'anno di investimenti, ancora insufficienti ma importanti, con un salto rispetto alle precedenti esperienze di qualche centinaio di migliaio di Euro a 11 milioni di Euro. Abbiamo messo in campo per gli avvisi che hanno il carattere della triennalità, non più interventi sporadici, arrancando ogni anno per avere finanziamenti, ma attraverso una logica di programmazione. L'investimento in cultura è un investimento importante, non solo per dare e consentire ai nostri giovani i nostri talenti di avere opportunità di esprimersi, ma anche e soprattutto per rendere più attrattiva la nostra Regione, perché la valorizzazione del patrimonio culturale è un fattore di primaria importanza per la crescita e per realizzare anche opportunità di lavoro. Ritengo che questo è l'investimento più importante e anche per questo noi spingeremo via via a rafforzare anche gli investimenti che abbiamo già portato a cifre importanti. Si è parlato di una logica triennale, anche nei finanziamenti, non solo dà più respiro, ma dà anche più certezze nell'organizzazione stessa del programma. Sì, c'è un'inversione di tendenze evidente. Questa questione della programmazione triennale è fondamentale perché ti consente di programmare come si deve. Questo progetto, Europe Connection, è appunto un progetto triennale e finalmente abbiamo avuto la possibilità, grazie a questo sostegno, di fare un'articolazione che sia appunto spalmata su più anni e di fare tutta una serie di azioni di sistema per coinvolgere tanti artisti, tanti addetti ai lavori calabresi. Quindi sì, è un sostegno importante che ci consente appunto di programmare con serenità. C'è la logica ora della triennalità, quindi anche voi potete lavorare con più certezze, con una bussola differente rispetto al passato. Assolutamente sì, questa è stata una cosa voluta dagli operatori e assolutamente accolta dal Presidente, per cui si ha il respiro per poter pensare dei progetti a lungo termine e a lunga durata. Non è un caso che questa cosa ci ha dato la possibilità di pensare una costola importante di primavera dei teatri, che è questo progetto di Europe Connection, che è un progetto che prova a mettere insieme la drammaturgia contemporanea europea con le compagnie calabresi. Avrà un respiro triennale. Ogni edizione del festival accompagnerà il percorso artistico di tre compagnie calabresi che lavoreranno con tre autori stranieri, che verranno qui in Calabria, faranno residenza qui. Il Vice Presidente della Giunta regionale Antonio Viscomi, in un comunicato, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dalla Regione nel diritto allo studio universitario. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si legge, ha condiviso con l'amministrazione regionale calabrese le intenzioni sul riparto del Fondo Integrativo Statale per il diritto allo studio universitario, che per la Calabria, nell'anno 2017, è aumentato da 9 a 12 milioni di euro, quando già da 6 era salito a 9 milioni nell'anno precedente. Un risultato eccezionale, sottolinea Viscomi, che arriva grazie all'investimento della Regione Calabria, che in Giunta abbiamo fortemente voluto col Presidente Oliverio, destinare a borsi di studio e prestazioni per gli studenti. Con grande decisione, infatti, da tempo abbiamo deliberato di dedicare al diritto allo studio universitario una quota di fondi POR 2014-2020, prosegue il Vice Presidente, che ammonta 2 milioni e 300 mila euro annui, che si aggiunge ai 4 milioni e 900 mila euro del bilancio regionale. Non ci fermeremo fino a quando non vedremo gli aerei sulla pista del Sant'Anna, lo ha detto il Sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, nel corso della conferenza stampa tenuta, per presentare la manifestazione insieme per l'aeroporto, che si terrà alla mezzia terme, il prossimo 9 febbraio alle ore 11 davanti alla sede della Sacal. Una manifestazione senza colorazione politica, ma che vede tutti, istituzioni, associazioni, sindacati, comitati, cittadini, insieme per chiedere la reale apertura dell'aeroporto e mobilitarsi per il futuro di tutta la fascia ionica, per il diritto alla mobilità di un'area importante della regione. Gli autobus messi a disposizione dalla Comune di Crotone partiranno da Piazzale Nettuno, dove è previsto alle ore 8.30, il concentramento di quanti vorranno manifestare per il diritto alla mobilità. E' alto il rischio di revoca dei pagamenti sui progetti inerenti al completamento di piazza Bilotti a Cosenza, lo afferma Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, che, è scritto in una nota, aveva interrogato la Commissione europea circa lo stato dell'arte del finanziamento comunitario, che aveva come obiettivo la riqualificazione della centralissima area a Cosenza. La risposta della Commissione è arrivata, continua Ferrara, e non è rassicurante. I pagamenti a valere sul FSR inerenti due progetti, non ancora completati, sono sospesi da febbraio 2017. Ad oggi, dunque, rimangono congelate a Bruxelles oltre 10 milioni di euro dei 16,1 milioni previsti per il completamento dell'opera. Causa della sospensione, come ribadito dalla Commissione, sono le indagini condotte dalla DDA di Catanzaro. Vanno infatti ricordati i forti ritardi nella consegna della piazza alla città, anche a causa del sequestro per le presunte irregolarità nella giudicazione della gara d'appalto e le commissioni tra mafia e politica. Nasce il Comitato per la Grande Lamezia. L'obiettivo è quello di realizzare un progetto ambizioso che dia, scritto in una nota, la giusta valenza all'area centrale della Calabria e ne riconosca il ruolo determinante e strategico nel territorio regionale e nell'Italia meridionale. Ad annunciarlo è il fondatore di Rinascita di Lamezia, Ugo De Sarro, che aggiunge Il Comitato si propone di coinvolgere i cittadini di ogni estrazione sociale e politica e di comuni del comprensorio lametino. L'obiettivo, superata la fase di commissariamento che in questo momento interessa la città di Lamezia, è quello di arrivare alle prossime elezioni amministrative, votando per il nuovo ente comunale, sostiene De Sarro. Giovedì 8 febbraio alle ore 10 nella sala conferenze del centro polifunzionale della Polizia di Stato di Via Barlam da seminare a Catanzaro si terrà la conferenza stampa di presentazione di U-Pol, un'applicazione per smartphone e tablet sviluppata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e finalizzata la sicurezza dei giovani per la difesa dal bullismo, cyberbullismo, dallo spaccio di droghe e da altri comportamenti violenti. A conclusione della fase di sperimentazione attuata in tre città italiane, Roma, Milano e Catania, L'estensione operativa di U-Pol interesserà ai capologhi di regione e in tale ambito per la Calabria l'applicazione sarà funzionante esclusivamente nella questura di Catanzaro. La Camera di Commercio di Cosenza e l'Inps hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che sancisce una più stretta collaborazione tra i due enti. Con questo protocollo che noi facciamo a livello locale a Cosenza, che è un pochino un progetto pilota che io intendo poi eventualmente estendere alle altre sedi della Calabria, c'è una trasmissione informatica, telematica tra i dati sui fascicoli aziendali, quindi tra le iscrizioni che ha la Camera di Commercio, le nuove iscrizioni o le cessazioni e quindi le aziende in essere presso la provincia di Cosenza e noi d'altra parte le registriamo e anche noi abbiamo le stesse iscrizioni perché chiaramente noi le dobbiamo censire, quindi perché poi ci arrivano i flussi con i contributi dei lavoratori. Quindi avere allineati gli archivi informatici dell'Inps e gli archivi della Camera di Commercio di Cosenza ci permette di avere sia dal punto di vista statistico e anche dal punto di vista funzionale sicuramente, almeno speriamo, i risultati positivi. Questo è un altro importante accordo raggiunto dall'ente camerale di Cosenza nel solco del progetto Open Camera Cosenza che ha impresso una decisa svolta culturale e di governanza all'insegna dell'innovazione e della trasparenza. Questo è il 22esimo accordo in questi tre anni. Su ogni accordo che noi abbiamo fatto abbiamo portato avanti un progetto. Stiamo avendo una grande collaborazione e in realtà gli enti pubblici si mettono insieme. Stamattina con l'Inps avere all'interno dei nostri dati anche l'occupazione è qualcosa molto importante. Poi parliamo dell'Inps, l'Inps significa imprese, oltre al mondo dei lavoratori. Doveva essere fatto da anni questo accordo con l'Inps. La Camera di Commercio rappresenta tutte quelle imprese, è il registro delle imprese previste per legge. Non avere un accordo con l'Inps e quindi uno scambio di dati è un qualcosa di non verosimile. Questo anche per magari il rinnovo delle Camere di Commercio e voi sapete benissimo quando c'è stato il rinnovo molte volte ci sono stati contrasti. Quindi tutta la luce del sole in un modo trasparente. Colpo di fortuna a Melito Portosalvo dove sono stati vinti 50.000 euro con una giocata da 2 euro alla 10 e l'8. Il fortunato giocatore ha confrontato direttamente sul monitor i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10 e grazie al numero oro l'opzione di gioco della 10 e l'8 ha potuto realizzare la vincita. Un furgone, un trattore e altra attrezzatura agricola tra cui una ventina di decespugliatori per un totale quantificato in circa 100.000 euro sono stati rubati in un magazzino della cooperativa sociale Alba di Polistana. La coppa, aderente al consorzio Regino Macramè, gestisce nella piana di Gioia Tauro alcuni terreni, quasi 300 ettari, coltivati ad agrumi e confiscati all'Andrangheta. A scoprire il furto sono stati alcuni soci e lavoratori della cooperativa che, una volta recatisi nel capannone utilizzato come deposito, hanno scoperto i segni di effrazione e la mancanza dei mezzi e delle attrezzature. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri. Un cittadino pakistano di 41 anni ritenuto un corriere internazionale di droga è stato arrestato dalla Guardia di Finanza del gruppo di Sibari. L'uomo, da tempo residente a Cassano a Loioni, è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di eroina contenute in 42 ovuli da 10 grammi ciascuno. I finanzieri, con l'ausilio del cane antidroga ABOS, durante il controllo dei passeggeri di un bus proveniente da Milano, hanno concentrato le loro attenzioni sull'uomo. Il controllo dello zaino del sospettato, accompagnato dal figlio minore, ha consentito di trovare i 42 contenitori ancora sigillati. Dall'esame del passaporto è emerso che l'uomo, proveniente dalla Pakistan, avrebbe ingerito gli ovuli per superare i controlli aeroportuali, per poi espellerli una volta giunto a destinazione. Il figlio minore, che ha viaggiato con lui, e che il risultato estraneo al trasporto illecito, è stato affidato alla madre. Si è tenuto nella serata di lunedì scorso, nell'elegantissima cornice del Roof Garden del Casino di Sanremo, l'ottava edizione del Gran Galà della Stampa, presentata da Antonella Salvucci e Marino Bartoletti, nell'abito del quale sono stati consegnati i prestigiosi premi numero 1 Città di Sanremo e dietro le quinte. Evento ideato da Ilio Masfrone, divenuto ormai l'antiprima del Festival di Sanremo, in una serata all'insegna dell'eleganza e della grande musica. I premi vengono assegnati a popolarissimi artisti addetti ai lavori, che hanno contrassegnato i momenti più salienti della storia del Festival e valorizzato la musica italiana nel mondo. A consegnare la palma d'argento a Toto Cutugno, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri è lo stesso maestro affidato, orafo ufficiale dell'evento. È uno dei premi più belli che abbia mai ricevuto, ha detto Cutugno, ritirando il premio, una scultura davvero molto particolare che custodirò con cura tra i miei premi. Sì, questa è l'antiprima del Festival, ormai la vivo da diversi anni. Il sesto anno per me è veramente un grande piacere aver potuto primare in tutti questi anni i grandi della musica italiana, coloro che hanno costruito e hanno reso importante il Festival della canzone italiana nel mondo. Questa sera in particolare un italiano vero, Toto Cutugno, che ci ha veramente emozionati con questo suo brano, che ormai è conosciuto in tutto il mondo. Toto Cutugno in questo momento nelle prime classifiche russe, questa sera ha dato veramente una sua grande dimostrazione della sua arte. Tanti gli artisti, giornalisti, personaggi del mondo musicale e rappresentanti delle istituzioni presenti alla serata, affidato in qualità di ambasciatore dell'Unicef, ha voluto anche fortemente promuovere a Sanremo un convegno dal tema per una integrazione che riguardi i diritti di tutti. Restano ancora da consegnare nelle serate clou del Festival i premi della critica Mia Martini, prestigioso incarico conferito a Michele Affidato, realizzati sia per la sezione campioni che nuove proposte. L'obiettivo di tutti i calciatori è arrivare più in alto possibile, quello è certo, l'anno scorso non è andata bene, ho tentato quella Serie B comunque perché mi hanno voluto, poi una serie di cose, anche colpa mia, non è andata come volevo andasse, comunque sì, ho ancora tempo per riuscire a fare quello che voglio io e comunque l'obiettivo è arrivare più in alto possibile, ma è l'obiettivo di tutti i calciatori. Ho voglia di fare, di lavorare, di giocare, ma soprattutto di dimostrare che sto bene, sono qui per fare la mia parte. Stefano Cason, nuovo calciatore delle Catanzaro, ospite martedì negli studi di RTC Telecalabria, si è detto felice di questa nuova esperienza professionale. In attesa di recuperare la migliore condizione fisica, Cason si allena sodo tutti i giorni e spera nell'esordio già durante la sfida di domenica alla Leonzio. Deciderà il mister quando sarà il momento, dice Cason, io penso soltanto a lavorare, questa è una squadra che può crescere ancora tanto ed è giusto che ambisca ad una posizione play-off. Bastano due vittorie e sei già nel play-off, quindi la classifica non è disastrosa. Chiaramente io dico, dalla squadra che vedo, il Catanzaro meritava non sicuramente non questa posizione, ma molte più posizioni sopra, ma bastano due vittorie e sei già nel play-off, quindi bisogna fare un grado di ritorno. Io vedo solo dagli allenamenti che due settimane sono qua, e la cattiveria c'è, anche la cattiveria agonistica c'è, il più è quello giusto, anche il mister ce lo ripeto tutti i giorni, che comunque la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, non sapendo quello che c'è stato prima. Quindi la mentalità c'è, c'è magari da essere un po' più forti mentalmente, di aggressività, di questo, ma io sono sicuro che comunque la squadra, i giocatori ce l'hanno questa aggressività. No, assolutamente, è una cosa che anzi fa bene, perché sprona tutti i giocatori a fare meglio, alla squadra a fare meglio, comunque siamo tanti giocatori in una sola barca, quindi bisogna rimare tutti alla stessa parte, nessuno deve rimare contro, e quindi è giusto avere competizione sempre nella squadra. No, ma io l'avevo già giocato qua due anni fa, quindi sapevo già com'era la piazza, assolutamente una piazza calda, è bello, oltre allo stadio che è bello, è bello entrarci, vedere il pubblico, vedere la curva, è proprio una bella soddisfazione, è bello giocarci, bisogna fare la partita come abbiamo fatto le ultime due, bisogna mettere in campo tutto quello che si ha, bisogna impostare a noi la partita, bisogna riuscire a mettere sotto la squadra che incontreremo, e bisogna assolutamente vincere. Grazie a tutti.